Ok ci siamo, appena acceso ho messo il traietto più basso, mi permette di rimontare il vecchio raccordo mantenendo però l'interasse alto di 35 cm manca tantissimo spazio, si può andare in due tranquillamente, un po' di fumo per fare l'atmosfera, qui c'è la modifica e adesso vedremo se funzionerà, ok ho rimesso anche la termostatica finalmente, vediamo se funzionerà vediamo se funziona mi vuole mettere a fuoco 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 non va in temperatura neanche se vuole la termostatica con pochi azzesi qui perdite non ce ne sono a parte la classica Malossi che perde schifo ovunque l'alternativa è fare un collettore apposito che rimpiassi quello originale che è veramente penoso bene direi che ci siamo adesso rimontiamo le cariene e poi dopo qui è leggermente cresciuto il livello non se lo potete vedere leggermente non va in temperatura neanche al minimo qui ne sono Ok, bene ragazzi, buona così, direi che ci siamo Finito